Buongiorno a tutti, buonasera, sono Andrea Carratta, sono un back-end developer da sempre e in questa sessione di odierna voglio parlarvi di come creare un nugget partendo dal codice sorgente sui vostri repository e renderlo disponibile sia a livello aziendale che a livello pubblico su nugget.org. Cosa vedremo oggi? È molto semplice, una breve introduzione, il workflow del processo, il perché ha senso o perché non ha senso creare un nugget del proprio codice sorgente, alcuni spunti e riflessioni e vari eventuali che ho riscontrato durante le mie esperienze da programmatore in questo ambito, una demo completa ed eventuali domande da parte vostra. Prima di tutto abbiamo sempre usato tutti i nugget anche non volendo durante lo sviluppo di un'applicazione ma la vera domanda è, vi siete mai chiesti cos'è un nugget realmente? Il nugget fondamentalmente è uno zip a cui viene associata l'estensione nu.pkg. Se lo aprite all'interno troverete delle dll e un manifesto ed altri file di contorno che servono al nugget stesso. Questo nugget che vi mostro è un nugget che ho creato io e reso disponibile pubblico quest'estate e scaricandolo tramite il download package presente sulla destra, l'ho aperto e all'interno come vedete trovate una serie di file che è quello che compone realmente il nugget. L'ho lasciato con la sua ascensione originale e come vedete l'ho aperto con serve zip come se fosse un normalissimo zip. Allora repository che è il secondo ambito di questo workshop. Allora personalmente per i sorgenti utilizzo sia DevOps che GitHub. Per questa demo ho deciso di optare per metterli su GitHub in modo che poi rilascerò pubblici e in modo che se volete prendere l'esempio potete tranquillamente fare degli esperimenti lato vostro. Ora cosa significa creare un nugget? Partiamo dal presupposto che quando scaricate un nugget non vi avviate in un mondo di black box dove è tutto ignoto. Per noi programmatori usare un nugget significa almeno immaginare a grandi linee quello che succede. Cioè è un componente che permette di agevolarsi delle funzioni, quindi vuol dire che c'è qualcuno chiamato creator che l'ha scritto, un nostro collega programmatore che ringraziamo tanto. E in qualche modo è arrivato su nugget.org o nella nostra soluzione di sviluppo. Quello che voglio farvi vedere oggi è come avviene il qualche modo per effettuare la trasformazione da sorgente a pacchetto. Allora ve lo spiego a grandi linee poi lo vedremo per fasi. Una volta scritto il sorgente tramite viso studio o l'editor che preferite, verificando che si compile tutto, lo consegniamo su repository nella demo GitHub e troveremo tutto lì. Tramite DevOps e su DevOps sono agganciato il mio repository GitHub ed effettueremo delle operazioni di build del pacchetto appena consegnato. Con il build faremo un publish che può essere su nugget.org oppure su un nugget privato. E una volta che abbiamo consegnato sull'host dei nugget potremmo utilizzarlo in altre applicazioni. Oggi vi faccio vedere un doppio passaggio a livello di host. Mi spiego meglio. Useremo un feed privato per la questione del test del nugget e poi passeremo alla release vera e propria pubblicandolo su nugget.org. Questo doppio passaggio ha senso sì, soprattutto se il nugget viene reso pubblico a livello mondiale. Io quando li sviluppo i miei personali, come prima cosa li testo agganciando alle mie soluzioni di sviluppo il feed, quello privato dei miei DevOps. E quando poi la gente li utilizzerà da nugget.org avrà il feed pubblico. Allora, seconda domanda, perché dovrei mettermi in ballo a generare tutto questo processo per del codice sorgente che potrei agganciare tramite una libreria esterna sempre in viso studio? Parlo del caso di nugget aziendale, non di nugget pubblico adesso. Allora, il nugget ha il grosso vantaggio di rendere il codice centralizzato e questo lo farebbe anche un pacchetto, un TS Project. È riciclabile, si può agganciare tranquillamente in diversi componenti, che sia ai ambiti, che sia web, function o Windows form o console app e questo mi direte lo fa anche un TS Project. Il vantaggio grosso del nugget è che, come tutti sapete, sono versionati, quindi nel momento in cui lo sviluppatore cambia una firma o un metodo o li rinomina o quello che volete, o lo rompe perché mette un bug, finché voi non aggiornate il pacchetto, il vostro codice continuerà a funzionare tranquillamente. Questa operazione fatta con un componente di un TS Project, un progetto aggiunto alla soluzione, romperebbe tutto e questo già è un primo vantaggio enorme. Un altro punto che personalmente trovo fantastico è nello sviluppo riduce tantissimo il peso della soluzione di viso studio. Quando mi trovo con davanti soluzioni con dentro un sacco di progetti, per quanto siano gestibili, organizzabili in cartelle per ambito o altro, sinceramente anche muoverci nel codice è impegnativo e quindi in nugget questo passaggio te lo agevola, semplice, moltissimo. Perché non dovrei creare un nugget? Questa è una bella domanda e potrebbe smontarmi il workshop, però ho deciso di aggiungere ovviamente questa slide. Allora se il nugget che volete creare copre totalmente ed esclusivamente un micro servizio o un progetto che è usato solo internamente lì, non ha senso crearlo. Un nugget è per quanto possa essere comodo per un uso one shot o di durata molto breve, non ha senso scriverlo. Ad esempio un progetto che lo comincio oggi per migrare dei dati dalla piattaforma A alla piattaforma B, che ci metto una settimana, due settimane e poi butto tutto via, non ha senso scriverlo. Non ha senso scrivere il nugget quando il codice di partenza è veramente scritto male. Mi spiego meglio. A volte per scrivere un nugget basta identificare vari ambiti già rimasti in un progetto e portarli fuori e nuggettizzarli. Se il codice di partenza è fatto veramente male, non fatelo, prendetevi del tempo e riscrivetelo da zero. Ne guadagnate in salute anche per la manutenzione successiva. E se siete pigri, se siete pigri e non avete voglia di impegnarvi con un processo un po' più lungo, più impegnativo, evitate di imbattervi in questa soluzione perché poi comunque il nugget va mantenuto. Spunti di riflessione, dovete capire delle cose, è importante, il nugget sarà pubblico oppure privato o aziendale? Questa domanda va posta per un semplice motivo, sarà pubblico dove lo posso mettere? Su nugget.org, chi mi faccia visibilità, va benissimo. È privato o aziendale? Perfetto, noi come ambito di progetto del mio cliente principale usiamo DevOps come feed di nugget privato o aziendale e abbiamo accesso ai nugget solamente noi dell'organizzazione come sviluppatori. Un nugget aziendale con dati magari con procedure sensibili, non mettetelo su nugget.org, perché chiunque potrà usarlo. Un altro spunto di riflessione è la compatibilità del pacchetto. Quando ho creato un nugget è una classe library in Viso Studio. E cosa significa? Dovete associare una versione di codice. Se tenete questa versione di codice a netstandard 2, riuscite a dare una copertura ampia del vostro nugget anche a progetti legacy. Se non ricordo male, dovreste arrivare a coprire scendendo fino alla 461, fino alla 462. Se fate un nugget netcore o net5, tagliate fuori un sacco di utilizzatori. Soprattutto se questo qua si pone come problema, se lo mettete su nugget.org, il vostro nugget avrà pochissimo successo, perché non ci saranno molti ambiti dove utilizzarlo. Le due domande finali sono molto contrastanti. Quindi, quando volete creare un nugget, quanto ha senso mettere in un pacchetto e quanto ha senso tirare fuori dal pacchetto? Vi pongo il caso reale per cui mi è nata questa sorta di riflessione. Abbiamo fatto un componente in ambito cloud. Avevamo già una classe che copriva parte del codice per l'ambito cloud Azure. e l'abbiamo travasata in un nugget dedicato. Il problema è che all'inizio questa componente era minimale, aveva dentro 4 o 5 aree che ci servivano. A fuori di sviluppare e crescere il progetto, questo nugget è stato troppo grosso e rischiava di creare delle dipendenze pesanti ogni volta che lo si portava in altri progetti. Quindi abbiamo deciso di romperlo, di spacchettarlo per aree, mantenendo gli stessi namespace per non dover ricompilare il codice. e questo passaggio ha fruttato benissimo perché abbiamo alleggerito i progetti, tutte le dipendenze da creare ogni volta e soprattutto ogni singolo nugget è agganciabile al bisogno senza dover tirare dietro tutto quanto il resto. Questo può far molto comodo se dovete fornire il nugget a una società esterna per collaborare con voi. A questo punto potete passargli solo una parte minimale del vostro pacchetto aziendale e non tutto quanto. Allora, vi do un consiglio che ho riscontrato personalmente sull'utilizzo dei nugget e microservizi. È vero che avevo detto di non creare un nugget per ricoprire interamente un microservizio perché non aveva senso con un mapping 1.1. Però vi dico che è molto utile creare un nugget come SDK del microservizio. Mi spiego meglio. Nel nugget praticamente tutta la chiamata verso il microservizio, la creazione di DTO, get post, eccetera, eccetera, viene fatta all'interno dell'SDK. Quello che serve è solamente la base URL e la chiave e il token d'autenticazione. In questo modo, dovunque siete nel vostro codice che volete chiamare un microservizio per passare dei dati, per mettere in coda un DTO, per avere una REST, vi basta solamente chiamare, agganciare le SDK del nugget e il gioco è fatto. A quel punto non vi dovete preoccupare di chiamare HTTP client, fare una REST, una post, serializzare, deserializzare. Lo fate generico su T e avete guadagnato un sacco di tempo nello sviluppo. scriverlo, un SDK è abbastanza veloce perché se lo fate durante la creazione del microservizio stesso, meno delle parti che esponete, e poi una volta fatto ci pensa tutto lui. Bene, ho parlato anche troppo per i miei gusti perché come mi hanno definito ho una socialità di un comodino in camera da letto rotto e quindi adesso ci sporchiamo un po' le mani che è la parte che preferisco e vi faccio vedere i vari passaggi per affrontare questo processo. Andremo a vedere il repository, come si crea un nugget privato, come si gestisce una creazione di una pipeline di build e release e poi il nugget creato e pubblicato. Prima di passare nella demo vi vorrei segnalare una cosa, una nota. In Azure DevOps è possibile creare le pipeline di build in due modalità, tramite UI, che è l'editor classico offerto da DevOps, oppure in modalità YAML. Allora, quale usare? Qua dipende da voi. Personalmente le ultime che ho sviluppato le ho fatte in YAML, ma per questa demo, anche per questione di tempo, la farò vedere con l'editor classico. Come migrare? È abbastanza facile perché dall'editor classico è possibile esportare la pipeline YAML. La domanda finale, posso utilizzare la pipeline come il codice? Sì, se è fatta con YAML, viene anche versionata, la trovate nel vostro repository e potrete, a modalità copia e incolla, riciclarla e adattarla al nuovo progetto. Una nota importante che andremo a riscontrare in caso di nugget aziendali, con il feed privato dovete fornire l'identificativo alla pipeline di build per capire a quale feed privato accedere. La pipeline di build nel momento del nugget restore accede a nugget.org, ma se noi chiamiamo l'organizzazione, il nugget della nostra organizzazione, su nugget.org non lo troveremo mai e il progetto di build scoppierà. Quindi ricordatevi di fare attenzione e se non ricordo male via YAML, si deve aggiungere la nota feed restore e passare l'identificativo. Per avere l'identificativo del feed privato, vi consiglio di fare una pipeline con il classic editor e una volta fatta, mostrarle YAML per vedere quale è il codice del vostro feed. Demo. Per questa demo ringrazio pubblicamente la mia amica Maria che lavora in Microsoft, che mi ha ispirato lei al pensiero di come farla. Vedremo la creazione di un nugget Hello World e mi state chiedendo cosa c'entra la mia amica. L'anno scorso, in un commento al mio post, mi ha detto che con Hello World non si nega mai nessuno e quindi oggi faremo l'ennesimo Hello World di questo mondo. Allora, i protagonisti della demo sono è un Hello World su Viso Studio, dei repository su GitHub, le nugget 6D con classic editor su DevOps, le export in YAML e adesso siamo pronti per partire. Vi apro Viso Studio. Allora, Viso Studio, ho creato questo nugget Hello World. Non fa niente di che se non dire un Hello World anonimo e un Hello World col nome dell'amico. non voglio entrare nel codice perché non era questa la parte fondamentale per la demo. Quello che voglio farvi vedere è come creare e gestire il tutto. Allora, ho creato un repository, un progetto DevOps Conf e al quale ho associato una pipeline di build. Perfetto. Allora, la pipeline di build è composta da questa schermata alla quale diciamo di prendere i sorgenti dal mio GitHub diciamo il repository il ramo di default di quando scatta e di quando scatta la pipeline. poi come prima operazione dobbiamo effettuare un comando .net restore aggiungendo il task netcore su tutte le solution presenti nel repository e gli diciamo di usare i feed presenti su nugget.org poi una volta fatta il restore dobbiamo lanciare la build vera e propria sempre sulle soluzioni e come argomento gli passiamo il build version dopo vi faccio vedere come valutizzarlo se la build va a buon fine dobbiamo fare pacchetto da mandare su poi come artifact per la nostra pipeline di di staging e release allora come trigger trigger ho aggiunto non ho aggiunto il continuous integration adesso perché per la demo non mi serve non facendo test in questo ambito qua il build number lo definiamo in option e personalmente li identifico con anno mese anno giorno anno giorno dell'anno numerico da 1 a 335 le ore e i build e il build dd conseguenziale in questo modo quando pubblico più pacchetti con lo stesso giorno non rischio sovrapposizioni perfetto e qua vedrete la history delle modifiche alla pipeline che ho fatto l'altra sera ora proviamo a lanciarla quando farete run vi scegliamo il ramo master dove ci sono tutti i sorgenti nel frattempo che la pipeline gira vi faccio vedere faccio vedere scusate qua qua eccola entrando nella pipeline avrete lo export to yaml e a questo punto potete tranquillamente vedere come è fatta la pipeline senza usare classic editor che è quello che vi ho appena mostrato io mentre la pipeline qua gira perfetto sta andando vi voglio far vedere come creare un feed privato andando in artifact vi basterà cliccare su create feed e dare il nome al feed test live to remove decidere se la visibilità e il progetto lo scopo a cui associarlo e il feed privato è stato creato come vedete non è niente di complicato per connettersi al feed avrete diverse soluzioni proposte in base all'ambito di lavoro e vi basterà in viso studio prendere questo questo URL qua e aggiungerla tra i vari repository di sorgente dei feed raggiungibili tramite tool option e source del nugget adesso vediamo se la pipeline ha finito sì la pipeline ha finito ha compilato in un minuto e 14 secondi adesso passiamo alla parte interessante la release del nugget ho creato questa pipeline allora la pipeline scatta con trigger manuale nel mio caso e si basa sull'artifact creato dalla pipeline di build hello world build che è quella che abbiamo appena lanciato adesso come stage ne ho messi due che sono quelli fondamentali la staging area e la nugget area che differenza c'è la staging area non fa nient'altro che prendere l'artifact il nugget appena creato appena creato e portarlo nel e pusharlo praticamente nel nel feed che ho creato per questa demo ed è mio privato quindi solo io posso cederci tramite il mio viso studio con le mie credenziali la seconda parte cosa fa effetto allo stesso comando di push non sul mio feed ma su un feed esterno in questo caso il nugget server è gestito tramite questa ap key adesso vi farò vedere la sezione ap key praticamente ho aggiunto una chiave ap key generata da accetta ap key da nugget punto org potrete potrete creare delle ap key per localizzarle e utilizzarle per pubblicare a nome vostro sul vostro repository una volta generata la chiave gli ho dato un nome simbolico test demo to remove gli dite quanto tempo volete tenerla valida un giorno push va benissimo global gli diamo asterisco in questo caso e facciamo create ha creato la nuova chiave copy adesso la incollo qua e uscirà questa stringa gigante perfetto adesso la cancello subito ok in questo momento vi sarà quando effettuate l'operazione vi arriva una mail sia di creazione di una chiave nuova sia una mail di cancellazione quindi adesso sul mio cellulare mi troverò due mail da nugget .org perfetto e adesso è ora di vederla andare la pipeline creiamo lanciamo la release staging area ok create la release è partita nel frattempo che si scoda apri un nuovo tab con gli artifact e vi faccio vedere questo una nota del feed privato troverete tutti i nugget pubblicati entrando nel singolo nugget troverete anche le versioni la sequenza di nugget rilasciate le varie versioni questo 1.00 è dovuto al fatto che ho dimenticato di mettere mercoledì sera quando ho creato la pipeline il build quello che vi ho fatto vedere all'inizio con giorno dell'anno anno giorno dell'anno orario e release una volta modificato con l'argomento corretto vedete che la sequenza avviene adesso vediamo ok perfetto la prima parte della release ha funzionato correttamente ed è andato pubblicato una nuova versione di nugget adesso f5 ok perfetto just now la versione con 6.61 se apriamo viso studio e andiamo ho creato due test vorrebbe essere questo con nugget c'è il nugget privato vedete nugget hello world 6.61 perfetto faccio install infatti non dovevo farlo qua ho spogliato il progetto scusate lo aggiungo qua e via adesso proviamo a vedere cosa succede dev andrea carratta punto hello world punto no non ancora preso eccolo qua console app ok effetto demo non manca mai perfetto adesso torniamo alla nostra console app che stando le dependency mi aspetto che abbia il nostro nugget vediamo se l'ha installato no install ok l'ha installato perché c'è il pallino verde finalmente dev andrea carratta punto hello world punto 6 hello world che è il nome del che abbiamo dato di là uguale a new c'è il punto sento anonimo par a già buono che l'hanno messo pippo per la prova e b poi mettiamo il mio sotto xxx uguale a 1 così facciamo un bel debug senza problemi e setup project f5 hello world hello world l'ho chiamato lo stesso comunque come vedete non ho scritto una riga di codice se non la la chiamata al nugget al codice già scritto è reso disponibile faccio rivedere con con nome e adesso c'è hello world andrea vedete non mi devo neanche preoccupare di quello che succede l'ho scritto io non l'ho scritto io so che mi dà un hello world una chiamata e è tutto risolto ora vorrei farvi vedere la parte interessante il nugget ha funzionato perfetto sono pronto per renderlo pubblico quindi stiamo andando su nugget punto org approva faccio l'approve dei del del pacchetto della pipeline adesso la pipeline verrà eseguita nel frattempo io torno su qua torno su nugget punto org mi cerco password help mi cerco il mio così quasi qua sono i miei quattro nugget rilasciati come vedete questo qua è la versione che ho avuto stamattina per sicurezza tra poco mi aspetto di leggere qua non più 6.6.0 ma di leggere 6.6.1 nel frattempo la pipeline sta andando nel frattempo ho ricevuto le due mail di aggiunta e rimozione della chiave che vi dicevo prima 4.4.0 4.4 perfetto adesso mi arriveranno anche le mi arriverà una mail che mi dice guarda che è stato aggiunto al repository il nuovo nugget vediamo qualche minuto che si aggiorna anche lui poverino nel frattempo vi faccio notare una cosa questa schermata è davvero brutta e anonima perché non c'è un'icona non c'è descrizione né niente come fare allora personalmente l'ho già fatto volevo farvi vedere come aggiornare un nugget per questa modifica nel frattempo sapendo di questo tempo morto ho aggiunto a livello di codice sorgente una fuente del nugget poi troverete tutto un'icona e nel CS project è bastato aggiungere una serie di tag autore company copyright description url tag icon e release note per fare in modo di vederli poi nella pagina ufficiale di nugget ora questo qual è il problema questa qua per me è una prova e non sono su master sono su un ramo chiamato nugget update come faccio devo portare rilasciarlo no la procedura è molto semplice torniamo alla pipeline di build iniziale pipeline apriamola facciamo run dove c'è branch tag cambiamo andiamo sul nugget sul ramo nuovo sul ramo dello sviluppo e lasciamo la girare cosa succede in questo momento partirà la pipeline di prima non su master o main ma su un ramo dedicato a una nuova implementazione cosa significa posso crearmi il nugget trovarlo in area di staging testarlo e senza rompere le scatole a nessuno che sta lavorando su main che vantaggio ha come ho detto prima il nugget è versionato quindi nel momento in cui mi creo il mio nugget da un ramo di sviluppo lo scarico nel mio progetto me lo installo posso rilanciare la pipeline su main rimettere il nugget da ramo di principale e io sul mio progetto continuerò a lavorare con il nugget con le ultime modifiche da provare io che le ho appena sviluppate perché un conto è sviluppare il nugget e un conto è integrarlo non a caso nella soluzione viso studio per completezza vi ho messo anche una solution unit test dove c'è proprio la hello world e poi andiamo a fare l'assert per verificare che fosse vero il risultato è un esempio molto idiota in questo contesto con un hello world però la procedura corretta è molto sarebbe bello applicarla spesso adesso vediamo qua a che punto siamo ha finito sembrerebbe ok perfetto lanciamo subito la pipeline di release 1 credit vedete adesso che l'ho lanciata oltre che aumentata il numero di build non è più associata a master ma è associata a un ramo di sviluppo adesso aspettiamo che è partita quindi in questo punto qua dovremmo vederlo aggiornato che lui prima o poi 461 la corrente sta ancora buildando personalmente vi posso dire in questo momento di attesa che ho lottato molto per introdurre nugget in un progetto aziendale e devo dire che a livello di sviluppo la vita è cambiata sia per me che per l'altro sviluppatore eccolo volevo farvi vedere questo ho aggiunto l'hello world è la versione nuova vedete ci sono delle note in più che prima non c'erano la description e la release e sono quelle prese dai tag dai nel CSS project sono apparsi è apparso il link a me l'autore e il copyright e tag che avevo messo come sempre nel CSS project ora visto che l'art è tutto andato posso farvi vedere lanciare prima la pipeline di release rilasciamola su nugget punto org approve approve lasciamolo andare nel frattempo torno al viso studio torno ai nugget all'interno del mio viso studio mi dà la frecciolina di update ho la 4.6 ho la versione nuova e adesso se qua è andata l'unica parte della demo che non ho provato scopriremo l'effetto demo se quando appare qua ci sarà o meno la l'icona del mondo torniamo un secondo le slide i vari passaggi ve li ho fatti vedere tutti la pipeline di build la pipeline di release lo stage la release i due step se volete il riepilogo del live nei prossimi giorni caricherò tutto su github e su youtube e se volete cercarmi contattarmi su linkedin anche solo per entrare in collegamento e scambiarci contenuti professionali da qua in avanti cercatemi pure sono ben felice di accogliervi nella mia rete in fondo alle slide troverete i commenti e qua vi lascio dei link utili l'articolo che ho fatto per il mio blog che ripercorre i passaggi scritti che abbiamo visto oggi l'introduzione di microsoft ai nugget stackoverflow per suggerimenti sui nugget e nugget.org finale i miei contatti linkedin il blog la mail e vediamo l'ultima cosa non ha ancora aggiornato ok ha preso un secondo abbiamo fede che non ha ancora appreso hello world perfetto non mi chiedo perché non ha preso l'immagine ma va bene comunque era quello che vorrei vedere che è possibile customizzare la pagina del nugget direttamente dal csproject i tag hello world standard io e basta grazie a tutti per l'attenzione e a devops conference per aver accettato la mia candidatura e farmi essere tutti qua con voi Luca grazie a te Andrea non sono arrivate domande magari aspettiamo qualche altro secondo io non posso far altro che ringraziarti è stato veramente come dire un viaggio bellissimo viaggio nel senso che abbiamo visto tutto dal tutto il percorso ed è stato interessantissimo e sicuramente insomma rimettiamo magari i link all'articolo tra i vari link che hai fatto ricordiamo che il video sarà disponibile online prossimamente non vedo arrivare altre domande quindi io ti ringrazio auguro a tutti buon proseguimento con le prossime sessioni perfetto grazie mille grazie a tutti per la partecipazione alla mia sessione grazie ciao ciao ciao